Perchè non ce l'ha ancora detto niente? Perchè non si metti di ripeterlo? E perchè tu sei ancora qua? Chi è per Viola Vidale? Sono il suo pedazzato. Ma vive con me. Fa bene, ok. Venite. Amore, come stai? Bene, bene. Sono qualche grafico. Mi hanno detto che tra poco posso andare a casa. Che è successo? No, ero distratta. E ho passato una macchina e non ho frenato in tempo. Grazie per avermi tenuto la mano in ambulanza. Veramente ero io, eh? No. Mi hanno detto che era il mio fidanzato. Mi sono spacciato per lui. Ora però è arrivato quello vero, quindi... Sì. Ci vediamo a casa. Ci vediamo a casa. Grazie a tutti